Sindaco Benincasa, a Viri sul mare c'è in corso un'importante strategica opera pubblica che servirà e aggiovererà soprattutto la viabilità e i trasporti sul territorio. Certamente è un'opera importante per i cittadini vietresi ed è strategica un poco per tutto il comprensorio. È un collegamento con ascensore da Piazza Matteotto fino alla stazione ferroviaria per cui si spera, si auspica che il Governatore De Luca voglia prolungare la metropolitana leggera per cui noi saremmo un collegamento diretto con Salerno. Qualcuno potrebbe dire periferia di Salerno, orione di Salerno. No, noi siamo il Comune di Vietresi sul mare che al servizio della costiera amalfitana e dei cittadini di Vietresi sul mare ci sarebbe la metropolitana leggera che sarebbe un rapporto extraterritoriale rispetto al Comune di Salerno, una sinergia tra enti ed un collegamento allargato. Diciamo che faremmo a pieno titolo parte con la metropolitana leggera di Salerno insieme a tutta la costiera amalfitana e se dovesse essere fissato il capologo a Vietri, benvenga, ci sarebbero anche l'utenza che proviene da Cava dei Tirreni. Altrimenti il capolineo può essere messo anche a Cava dei Tirreni e quindi Vietri sarebbe una delle fermate insieme, diciamo Vietri costa da Amalfi nel vero senso della parola, in questo caso per raggiungere Salerno. Io auspico con l'Università di Fisciane e con l'aeroporto di Ponte Cagnano. Quindi un rapporto territoriale e comprensoriale abbastanza ampio di questo segmento di metropolitane che potrebbe dare dei grossi risultati. Ovviamente noi avevamo l'esigenza per evitare la differenza di quote che esiste attualmente tra la piazza Mattiotto al centro di Vietri e la stazione ferroviaria di colmare questo gap e quindi abbiamo pensato a quest'opera di un ascensore in rocce. Con i fondi dell'accelerazione della spesa Porfers noi abbiamo proposto questo progetto che ci è stato approvato e lo stiamo realizzando. Speriamo di chiudere i lavori entro aprile. Ieri c'è stata una riunione in Regione Campania. Noi abbiamo avuto già un'anticipazione complessiva che arriva intorno al 40% del complessivo importo progettuale. Ci hanno garantito che anche perché forse non con fondi Porfers ma con fondi saranno trasferite queste opere al di sotto dei 5 milioni di euro su altri fondi, altro canale di finanziamento per cui ci hanno garantito che l'opera sarà terminata. Andiamo avanti e cerchiamo di migliorare sia in termini di qualità dei servizi, sia in termini di servizi, sia in termini di qualità della vita, sia in termini di qualità ambientale, sia in termini di qualità culturale. Un poco il benessere qualitativo del territorio e dei cittadini vietressi e non solo.